Il prossimo Consiglio Comunale di Agropoli è convocato per il giorno 11 dicembre 2021 alle ore 9.30 per la trattazione dei seguenti argomenti. Interrogazione di interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco sulla questione orti urbani. Sempre il consigliere Agostino Abate è una seconda interrogazione riguardante la delibera di giunta comunale numero 272 del 5 ottobre 2021. Al terzo punto all'ordine del giorno approvazione del bilancio consolidato anno 2020. Al quarto punto la deroga relativa all'istanza di permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso di un fabbricato per civile abitazione in struttura turistica ricettiva denominata la Colombaia Sita in Contrada la Vecchia. Quinto punto all'ordine del giorno variazione di bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con delibera del 26 novembre 2021 ratifica. Al sesto punto riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per il pagamento somme alla società Olivetti S.P.A. per forniture rese. Dal settimo al decimo punto riconoscimenti di legittimità di debiti fuori bilancio nei confronti degli avvocati Attilio Pecora, Cambareri Antonia, Ruggiero Musio, Gennaro Maione per spettanze professionali maturate e approvazione contestuale della transazione stragiudiziale derivante dall'acquisizione del servizio di patrocinio legale. All'undicesimo punto decreto ingiuntivo non opposto riconoscimento debiti fuori bilancio accordo transattivo con la controparte ditta Edil Daniello Antonio. Al dodicesimo punto riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio approvazione proposta transattiva e piano di rateizzazione del contenzioso con la società Tecnobuilding S.R.L. Al tredicesimo e quattordicesimo punto riconoscimenti di legittimità di debiti fuori bilancio agli avvocati Botti Luciano e Gaetano Apicella per spettanze professionali maturate e approvazione contestuale della transazione stragiudiziale derivante dall'acquisizione del servizio di patrocinio legale. Quindicesimo e sedicesimo punto riconoscimenti debiti fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo numero 267 2000. Diciasettesimo punto regolamento per l'assognazione a titolo gratuito di stalli di sosta riservati a persone titolari di contrassegno di parcheggio per disabili approvazione. Diciottesimo punto infine nuovo regolamento orti urbani approvazione. Qualora tale seduta dovesse andare deserta il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione presso l'aula consigliare del comune di Agropoli il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 9.30 per discutere lo stesso ordine del giorno.